Il prezzo del Brent è sceso sotto la soglia dei 35 dollari al barile per la prima volta da luglio 2004. Pesano le tensioni tra Iran e Arabia Saudita e le divisioni in seno all'organizzazione dei paesi esportatori non concordi sulla volontà di diminuire la produzione avanzata dai produttori minori, capeggiati dal Venezuela. La grande offerta di petrolio sul mercato ha causato una diminuzione del prezzo del 30% nel 2015 e la tendenza è ancora più netta dopo la decisione dell'organizzazione dei paesi produttori di mantenere invariato il suo livello di produzione.